Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Sul web si trova di tutto, tutorial che mi spiegano quale pulsante premere su qualsiasi programma esistente Quello che è più difficile da trovare, o meglio c'è, ma è difficile da individuare quello che serve proprio a me È la fonte di ispirazione La fonte di ispirazione è qualcosa di importantissimo per chi deve creare una strategia digitale Per chi è in qualsiasi tipo di lavoro creativo, di natura artistica ma anche di natura business Perché l'ispirazione ci consente di guardare al di là della stanza nella quale siamo È come una finestra, una finestra che ci permette di guardare fuori E fuori, come molte volte succede anche nella vita reale La nostra attenzione viene carpita da cose a volte inaspettate Possiamo essere in due davanti a una finestra Uno dei due dice che bello E l'altro risponde sì è vero, è proprio bello Ma stiamo dicendo bello a due cose diverse Perché? Perché quelle due cose che sono lì fuori dalla finestra Ci aiutano a interpretare quello che sta dentro la stanza E a espandere la nostra stanza creativa, la nostra stanza mentale Allora l'ispirazione è molto importante Oggi voglio raccontarti una storia di ispirazione Una storia che ha come oggetto i web talk Che cosa sono i web talk? Sono delle mini conferenze online Che abbiamo organizzato più di ormai due anni fa Con i miei compagni di Mastermind E questi web talk hanno una storia particolare Perché sono nati in un certo modo Sono evoluti e si sono trasformati In un ottimo strumento di crescita personale Per noi all'interno del Mastermind Fino a quando non abbiamo deciso di espanderli Regalarli, trasformarli in qualcosa di ancora più di valore Perché il valore di qualcosa non è solo il valore intrinseco Quante monete d'oro ci sono dentro allo scrigno Ma anche un valore esterno Quante persone riescono ad utilizzare quelle monete d'oro In una maniera tale da cambiare in meglio la loro vita o il loro lavoro E allora ti racconterò tra poco la storia dei web talk Spiegandoti che cosa sono, che cosa servono In che modo potrebbero aiutarti ad avere ispirazione Ma prima voglio ricordarti che su strategiadigitale.info Puoi mandare i tuoi amici, conoscenti, colleghi, capi, figli, zie Che sono in cerca di un utilizzo più consapevole del digital Per fare meglio il loro lavoro Mettere in piedi un business Coltivare un progetto online Ti aspetto su strategiadigitale.info E ora bando alle ciance È arrivato il momento di scoprire insieme i web talk Quando abbiamo iniziato la nostra avventura nel digital mastermind Eravamo pochi sperimentatori Sapevamo una cosa Sapevamo che non ci servono guru Ci servono compagni di viaggio Per il viaggio del business Per portare in essere un progetto, un'idea Trasformarlo attraverso il lavoro in qualcosa di solido Che porti valore a noi e agli altri Che cambi il mondo in meglio nel suo piccolo Non serve metterci seduti davanti a qualcuno che ci parla E ci trasmette la sua visione E ci insegna le cose che lui sa Ma serve camminare insieme Perché non serve un guru? Per due motivi fondamentali Il primo è che il guru ti trasmette una visione Che non sempre è la tua Cioè in qualche modo il guru sta dentro una scatola Ti porta dalla tua scatola alla sua scatola Ma non ti riesce a far andare oltre quella scatola Anche perché i problemi molte volte vengono alla fine dei corsi di formazione Alla fine dei percorsi Quando inizi a sporcarti le mani Quante persone ho visto tutte convinte in aula Che annuivano quando gli insegnavo qualcosa E poi uscivano fuori dalla porta E si trovavano come degli agnellini Spauriti Oddio e ora che faccio? Ho avuto mille problemi Allora la salute viene mangiando i problemi La salute e l'appetito viene mangiando I problemi, le difficoltà La possibilità di risolvere questi problemi La creatività viene lavorando Sporcandosi le mani col lavoro E quindi serve di essere subito attivi Subito cominciare a camminare E durante questo cammino avere delle persone accanto Che ognuna dalla sua scatola Ognuna dalla sua esperienza Ti porta un contributo Per risolvere il problema che stai incontrando in quel momento Il secondo motivo Per cui abbiamo scelto di avviare il Digital Mastermind È stato il fatto che il guru fondamentalmente ti vuole tenere sotto il suo ombrello Cioè quando arrivi al punto di essere come il tuo guru Il guru non è più contento Non è un obiettivo per lui quello L'obiettivo del guru è restare tuo guru più a lungo possibile Questo può avvenire attraverso un suo progresso più veloce del tuo Per cui per quanto come la tartaruga è Achille Per quanto tu continui a progredire E lui è sempre un passo avanti a te Oppure la cosa più triste A volte avviene nella trasmissione parziale Non ti insegno il 100% Ti insegno il 90% C'è sempre quel 10% Che non ti insegni in modo che tu possa avere il desiderio Di continuare a venire da me Questo è un fenomeno Ne abbiamo parlato tante volte In particolare sulla puntata Se incontri il Buddha per strada uccidilo Che ho pubblicato qui su Strategia Digitale in passato Questo è qualcosa contro il quale io mi batto tantissimo Anche nei miei confronti personali Perché appena insegni qualcosa a qualcuno C'è il pericolo della gurizzazione Cioè qualcuno ti mette su un piedistallo Ah bene allora tutto quello che dici D'ora in poi lo farò No no io dico sempre Non fate quello che dico Nel senso io porto la mia esperienza Ti dico la mia visione Ma la responsabilità del tuo business Del tuo progetto ce l'hai tu Non ce l'ho io E quindi devi essere tu A mettere in pratica le tue idee Le tue visioni Ispirate anche alle visioni degli altri Ma devono essere le tue Con questo punto di partenza Abbiamo cominciato a camminare insieme Con altri imprenditori professionisti Che condividevano il desiderio di sviluppare dei progetti E che tutti in comune tra di noi avevamo e abbiamo Il mezzo, il contesto, il digital Tutti quanti utilizziamo il digital C'è chi tra di noi ha dei business digitali C'è chi ha dei business analogici Cioè delle aziende o delle attività professionali tradizionali Ma oggi vuole utilizzare il digital come strumento di marketing Per fare meglio il proprio business Ci siamo messi insieme Abbiamo iniziato a camminare Una delle cose che da subito è stata presente all'interno del digital mastermind È stato il web talk Abbiamo detto facciamo così Una volta a settimana ci vediamo E parliamo di un argomento Naturalmente parliamo di un argomento All'inizio è stato Una volta a settimana ci vediamo E vi parlo di un argomento E quindi ci siamo visti una prima settimana E abbiamo fatto un talk online Una piccola conferenza di un'ora Io volevo farla all'inizio un pochino più breve Però mi sono dilungato E ho parlato ai miei compagni di mastermind Su come mettere a fuoco I miei obiettivi di business e di vita Cioè all'inizio quando devo cominciare proprio a lavorare Che ho il tavolo sgombro Che devo fare? Cioè qual è la prima cosa da mettere a fuoco? Da dove devo partire? Come faccio? Cioè qual è il metodo per mettere a fuoco Quelli che sono i miei obiettivi E costruire intorno ai miei obiettivi di business e di vita Tutto il resto della mia attività Bene Dopo questo talk Il mio compagno di mastermind Daniele Besana Ha detto una cosa molto molto interessante Ha detto Giulio Secondo me questo talk Non dovresti farlo solo tu Ma ognuno di noi dovrebbe condividere la sua esperienza Altrimenti ricadiamo nell'avere una persona che parla E gli altri che ascoltano E così subito dopo La settimana successiva Marzia Tomasin Mia compagna di viaggio Ghostwriter Web copywriter Ci ha insegnato come scrivere e produrre libri Che siano contenuti di valore E che possano aiutarci a coltivare la nostra autorevolezza E ci ha raccontato la sua esperienza personale Bene Settimana dopo settimana Noi ci siamo cominciati a incontrare Ogni venerdì alle ore 13 E quello continuiamo a fare Ogni venerdì alle ore 13 Ci incontriamo Per riportare le nostre esperienze E sono emerse Tre caratteristiche fondamentali Di questi talk Per non trasformarli in lezioni In conferenze I talk Devono essere Numero uno Basati Sulla nostra esperienza Cioè non mi venire a insegnare Il metodo Quello che hai letto sul libro Quello che hai ascoltato Nell'ultimo videocorso che hai fatto Io voglio capire Qual è la tua esperienza Con la condivisione Dei tuoi numeri Dei tuoi successi Dei tuoi fallimenti Cos'è che ha funzionato Cos'è che non ha funzionato Che mi interessa Forse ancora di più E voglio sapere La tua esperienza Come ti sei sentito Che impatto ha avuto questo Nelle relazioni Nella tua famiglia Nei tuoi colleghi Nelle persone che ti stavano intorno Ecco Avere la visione dal di dietro Cioè vedere il backstage Non la facciata Non quello che andiamo a raccontare Agli eventi Alle conferenze Con la presentazione patinata Io faccio il figo Scatta l'applauso Cioè è finita là No Io voglio vedere dietro E voglio avere la possibilità Di domandarti Di farti Le domande Anche più specifiche Rispetto alla tua esperienza Quindi la prima caratteristica Del web talk È che deve essere Basato Sulla tua esperienza L'hai vissuto O l'hai letto L'hai vissuto O l'hai imparato Da qualche altra parte Se l'hai vissuto Va bene Se l'hai letto Te l'ha detto Qualcun altro Guarda Il web è pieno Il web è pieno Di contenuti Che sono stati letti O imparati Da qualcun altro A memoria riportati Quindi non ne abbiamo bisogno Basato sull'esperienza La seconda caratteristica Del web talk È che naturalmente Doveva essere utile Agli altri compagni Di mastermind Quindi Va bene Io ti posso insegnare Come riparare Il tavolo Di Ikea Però Se È semplicemente Il tavolo Del tuo studio Magari non mi interessa Se mi stai spiegando Come sei riuscito A costruire Una postazione Per fare streaming Con Un tavolo Preso da Ikea Modificato E montando sopra Degli altri accessori Acquistati su Amazon Parlo naturalmente Per esperienza personale Perché nell'ultima settimana Ho completato La mia nuova postazione Per lo streaming Beh allora forse Mi interessa Perché Mi risolve un problema Pure io volevo fare Una postazione Per il video streaming E non riuscivo A trovare il modo giusto Per farla Invece in questo modo Posso prendere Quello che hai fatto tu E riportarlo Alla mia Alla mia esperienza Personale Quindi Preso Dalla realtà E Applicato Applicabile Ai nostri Business digitali La terza Caratteristica Del talk È che Sia un condensato E sia Un condensato Della tua esperienza E sia Però aperto al dialogo Cioè non mi Devi venire solo A Raccontare qualcosa Parlando tu Ma devo avere La possibilità Di farti delle domande Di avere accesso A te Come persona Non solo Ai tuoi contenuti Bene abbiamo cominciato Settimana dopo settimana A creare questi talk Ora per darti un'idea Delle cose che sono uscite fuori Ti leggo qualche titolo Ne abbiamo in questo momento 85 Coltivare abitudini E relazioni di valore Fabrizio Guidi Scegliere il prezzo Dei tuoi prodotti o servizi Di Giulio Caudiano Trasformare i servizi In prodotti Questa è stata bellissima Me la ricordo come fosse ieri La prodottizzazione dei servizi Di Daniele Besana Ottimizzare l'utilizzo Dell'email Odra Bertolone Chi meglio di un assistente virtuale Ci può insegnare Quello che lei fa E ha sperimentato Nella gestione Delle email Dei propri clienti E poi Per esempio Tagliare i rami secchi Del business Di Matteo Neroni Dopo questo talk Per esempio Dopo questo Potare l'albero del tuo business E saper dire no Alle cose che non Vanno nella direzione Non vanno nella direzione Dei tuoi obiettivi Di business Ho tagliato Personalmente E tutti noi Un po' l'abbiamo fatto Ho tagliato Dei rami secchi Dal punto di vista business E ho potuto Far crescere Le mie attività In una direzione Più conforme A quelli che erano I miei reali desideri Ed esigenze Utilizzare i bitcoin Per fare business Federico Itzi Analista Tecnico Finanziario Federico Attraverso questo talk Penso che sia L'unico talk Che ha fatto Bene Ha portato Un enorme valore A tutti noi Perché correva L'anno Era Ad agosto Del 2017 Subito prima Che il bitcoin Facesse il suo Picco storico E scegliere La frugalità Per raggiungere La libertà finanziaria Di nuovo Daniele Besana A comunicare Con la fotografia Giulia Adami Ragazzi Sono appunto 85 E talk Dopo talk Abbiamo esplorato Tantissimi Diversi aspetti Aspetti Che hanno a che fare Con il nostro Mindset Come quando Piero Salomoni Ci ha raccontato Come uscire La sua esperienza Di come uscire Dalla zona di comfort Per ottenere Più risultati Hanno avuto Questi talk A volte Ricadute pratiche Anche informative Molto operative In modo che Alla fine del talk Subito Siamo andati a Utilizzare un nuovo tool Un nuovo software Cambiare un processo Di lavoro Quindi hanno lavorato Sul mindset Sull'operatività E anche moltissimo Sull'ispirazione Perché Riuscire A guardare Nel business Di qualcun altro Cosa che è possibile Solo Con un certo livello Anche di intimità Nel senso che Nessuno si mette In mutande Così Da subito Davanti agli altri Per raccontarsi Ma serve Un contesto Di fiducia Di relazione Per riuscire A raccontare Bene il proprio business Però riuscire A vedere Dentro il business Di qualcun altro È importantissimo Sui social media Gli imprenditori I professionisti Si raccontano In maniera da Comunque cadere in piedi Cioè Hanno sempre un obiettivo Perché mi stai raccontando Questa cosa Perché poi mi devi vendere Il tuo corso In cinque semplici passaggi Per diventare ricco subito Perché mi stai facendo vedere Questa cosa che hai fatto Raccontando Perché mi stai raccontando Questa esperienza Perché Così tu possa costruire La tua autorevolezza Bene Ci sta Ci sta Non c'è niente di sbagliato Ma il talk Ci ha aiutato tantissimo A Entrare Senza uno scopo commerciale Nei business degli altri Per poter osservare Imparare Da loro Quali sono le loro Strategie vincenti Bene A un certo punto Ci siamo resi conto Che questa cosa Di estremo valore Non doveva essere Solo per noi Ci abbiamo ragionato sopra E abbiamo deciso Dopo aver fatto Qualche esperimento Nel senso che Ognuno di noi Poi ha cominciato A utilizzare I talk Anche a scopi personali Giulia Adami Per esempio Fotografa Ha preso il suo talk E l'ha trasformato Poi in un corso Che ha condiviso Con la sua community A un certo punto Ci siamo accorti Che anche Coloro che erano Al di fuori Del mastermind Potevano E dovevano Beneficiare Di questa Conoscenza Di questa ispirazione E così Tutti d'accordo Abbiamo deciso Di condividere La possibilità Di Guardare Questo talk Con tutta la community Di strategia digitale Con tutti i finanziatori Che partecipassero Al progetto Almeno con 10 dollari Al mese Ci siamo dati Questa Cifra di riferimento Per Identificare Chi Realmente È pronto A ricevere Un beneficio Dal punto di vista Business Da quello che ascolta Che non sta Semplicemente Ascoltando qualcosa Per intrattenersi Ma Ha un diretto Risvolto economico E appunto Di tipo business Da quello che ascolta Ma poi abbiamo Anche deciso Di Questo per la registrazione Abbiamo deciso Di condividere Lo streaming Con tutti Con tutti quelli Che al momento Sono pronti E desiderosi Il venerdì Alle 13 Di partecipare Al web talk E quindi Ti è venuta voglia Di Partecipare A un web talk È semplicissimo Farlo Se sei Già un finanziatore Di strategia digitale Con 10 dollari Al mese Bene Hai Accesso A tutto L'archivio Degli 85 Talk Dal link Che ti metto Nelle note Dell'episodio E Dalle I comunicazioni E-mail Che ricevi Ogni Ogni settimana Infatti Dopo aver pubblicato Il talk Ognuno Dei finanziatori Riceve Solitamente Un'e-mail Con La registrazione Se Invece Non sei ancora Finanziatore Di strategia digitale È uguale Hai comunque Accesso Allo web talk Infatti sul canale Telegram.me Slash Strategia digitale Puntualmente Ogni venerdì Alle 13 All'una In pausa pranzo Puoi ascoltare A turno Uno di noi Compagni di viaggio All'interno del Digital Mastermind Raccontare La sua personalissima Esperienza Perché possa dare Ispirazione Valore Beneficio Anche a te E al tuo business Siamo arrivati Alla fine Di questo episodio Ho sentito Il desiderio Di condividere Questa storia Sui web talk Perché Molti dei nuovi Finanziatori Di strategia digitale Mi hanno scritto E mi hanno detto Giulio Ma guarda Che non si capisce Che cosa sono Questi web talk Ma soprattutto Che enorme valore Possono offrire Noi non lo sapevamo Non l'avevamo capito È stata una piacevole Sorpresa Scoprirlo Una volta che abbiamo Iniziato a finanziare Strategia digitale Ma devi spiegarlo meglio Perché Quando sei al di fuori Quando ancora non sei Finanziatore di strategia digitale Assolutamente Difficile Comprendere Questa Questo contenuto Di tipo nuovo Diverso Da molti contenuti Che si trovano online E allora Io voglio ringraziare Due nuovi finanziatori Che sono arrivati Negli ultimi giorni Uno è Dario Pepe E l'altro È Andrea Della via Neanche a dirlo Due finanziatori Che avranno Accesso Ai web talk Di strategia digitale Creati dal Digital Mastermind Un grande grazie A tutti i finanziatori Di strategia digitale E un grazie A Audra Bertoloni I coautrici del podcast Al nostro fonico Costanza Mineo E Radiospeaker.it Per il sound design Ragazzi Grazie mille E alla prossima Strategia digitale Idee Novità E consigli Per imprenditori E professionisti E appassionati Di web marketing E business online E business online A cura Di Giulio Gaudiano De37 Che avr zu Dejä di E Grazie.